Ma dicevo, è chiaro che noi diamo della nostra attività un giudizio positivo, per dare il vostro però, io vi do un consiglio, quando uno si gira attorno, se usciamo si gira attorno, fa un giro per il paese, deve dire da dove siamo partiti, cosa c'era ieri e cosa c'è oggi. Fare un istantanea, cercare di fare un istantanea, immaginare cos'era Caselli a livello strutturale, poi dirò anche altre cose, cos'era Caselli nel 2003, fine 2003, nel 2004, cos'è Caselli oggi nel 2011, in settimana, vedrete cosa sarà tra qualche mese. Poi, questo per quanto riguarda il discorso opere, poi c'è anche un discorso di mentalità, perché noi abbiamo avuto tante difficoltà, tante ne abbiamo anche adesso e ne parleremo. E vi racconto un episodio, un giorno mi chiamo un amico, credo fosse nel 2005, 2006, un anno, due anni che eravamo insediati, mi dice, senti qui c'è una giornalista, ero al Toro Riva, c'è una giornalista del mattino, scrive tutt'ora sul mattino, quindi è una firma anche abbastanza importante, perché scrive con regolarità sul mattino. Io gli ho parlato di te, del tuo comune, ma è disponibile a fare un'intervista, un servizio su Caselli, era luglio credo fosse, luglio di Oltrato, caldo enorme, ricordo che faceva caldo, io sotto molto quando va caldo, scendo al Toro Riva, mi incontro con questa signora, parliamo di Caselli, dopo qualche giorno mi fa uscire mezza pagina del mattino, mattino estate, in cui richiamava la vicenda di Alarico, l'aveva anche condito un poco di mitologia, di fantasia, ma parlava di Caselli, parlava delle grutte di Caselli. E' chiaro, io allora per le grutte non avevo fatto niente per un anno, però era un modo anche per far uscire Caselli sui giornali. Ebbene, qualcuno qui a Caselli, qualcuno qui a Caselli, evidentemente, non so, non gli andava bene che il mattino dedicasse, in un'affetitrice importante, mezza pagina per il nostro comune, ebbe la brillante idea, tramite un'associazione di Vass, che era l'associazione ambientalista, di far uscire un altro articolo, in cui si parlava delle grutte, in senso negativo, dell'inquinamento, della tiga, eccetera. Questo, secondo me, rende l'idea di quali mentalità si sono sempre contrapposte qui a Caselli. Io non dico che una comunità, una controparte politica, bibba, necessariamente collaborare. Il concetto di collaborazione è diverso dal concetto di essere consociativi. Quello di dire, vabbè, io faccio la regolella, fai quello che dici tu. No, ne abbiamo sempre detto, voglio dire, una controparte politica, chi non ci vota, chi non ci apprezza, ha tutto il dovere, diritto, di mettere in salto certe nostre deficienze. Ma quando esce un articolo sul giornale, su Caselli, fatto in quel modo, e c'è qualcuno, chi ne fa uscire un altro, dice, no, non è vero, qua c'è l'altro così, quella così, vuol dire che ha un atteggiamento, una mentalità distruttiva. Immaginando di averla nei confronti dell'amministrazione, di fatto lo ha, quella mentalità, nei confronti della comunità. Io ho citato non a caso anche il discorso delle grotte, non a caso ho detto dove eravamo, dove siamo, dove andremo. Perché dove eravamo? No, noi abbiamo ereditato nel 2004 la direzione delle grotte, Maurizio parlava del flusso minimo vitale. È chiaro che non avere acqua corrente in un luogo così suggestivo come Bello, fa perdere a quel luogo il 50% minimo di bellezza, se volessimo quantizzarla. Maurizio diceva, abbiamo incontrato i vertici delle ripavole, abbiamo cercato di dialogare, come abbiamo fatto con tutti, come io ho fatto con tutti, dal singolo cittadino, alle associazioni, alla controparte politica. Sì sì, fare il progetto, lo faremo, a un certo punto sono scomparse. E allora diceva giustamente, Maurizio adesso bisogna cambiare passo. E bisogna adattarsi. Con le persone leali saremo leali. con le persone che all'apparenza sono leali, che quando serve qualcosa, ti vengono sorrisini, pacche, salamericchi e poi sono pronti a pugnalarti alle spalle, o a far venire meno la parola data, saremo inflessibili da questo momento in poi. E allora l'edipare va denunciata. Faremo una battaglia, l'abbiamo già detto al Presidente del Parco, l'ho detto nell'incontro all'Onorevole Longo, che è venuta qui a Caselle, chiese il sostegno della regione e della provincia, faremo una grande battaglia, perché ci devono dare il deflusso minimo vitale nel nostro fiume. Ma tornando al mio discorso, cosa abbiamo ereditato? Abbiamo dato una situazione disastrosa a livello della diga, c'era un inquilamento di Bonomo, non c'era il deflusso minimo vitale, un sentiero disastrato, non c'era niente. Per quanto nella vicina Morigerati c'era l'OASI WWF. C'era già un discorso turistico avviato, avviato con l'amministrazione Florezzano, presa poi da quella delia, quindi con, mi ricordo in un comizio, si vedono gli autobus che passano, poi ritornano e nessuno di loro si ferma. E dissi anche, me lo ricordo in un comizio, che se alla fine del mio mandato avessi visto tre turisti che passeggiavano, cinque, dieci, non ricordo il numero che utilizzai, ma era un numero simbolico, i turisti che passeggiavano nel nostro viale, avrei giudicato positiva la mia azione. Oggi abbiamo, non conosco le strutture private, sicuramente l'associazione che gestisce le case del centro storico che ha a gusto tutto fittato, di persone che vengono da fuori, e questo non è ancora niente. E allora che abbiamo fatto? Abbiamo creato quello scempio, gli scempio ne abbiamo fatti tanti, come quello del parcheggio. Oggi utilizzato, oggi, come disse quello dell'associazione camperistica che venne a Caselle, lo disse anche di fronte a prestamenti della nostra minoranza, facevi i complimenti al parcheggio, diceva, sì, ma questo è un fiore all'occhiello per il vostro comune. L'abbiamo realizzato, mi sono trovato a Teggiano qualche settimana fa, ne hanno realizzato uno simile nella piazza adiacente alla Curia, non so se c'erano altri secolari lì, non lo so onestamente, però hanno realizzato quel parcheggio. Noi l'abbiamo fatto, sono stati tagliati anche lì, ma forse non erano secolari come i nostri. Mi hanno realizzato uno lì, un amico mi diceva una sera a Sapri, no scusate, perché certe volte uno ha bisogno anche di sfocarsi, no? Mi diceva una sera a Sapri, parlavano della penuglia di parcheggio a Sapri e c'era qualcuno di loro che diceva perché non fanno come a Caselle, e nella piazza lì, quella della stazione, perché non fanno un parcheggio coperto e sotterraneo anche nella piazza della stazione. E qui diceva lo scempio del parcheggio, lo scempio del centro didattico, non dell'info point. E' chiaro, chi è che non avrebbe voluto porre nemmeno una pietra lì, in quel luogo incontaminato, però bisogna capire che cosa vogliamo, come vogliamo fare il turismo noi? Come vogliamo fare in modo, visto che non mi sembra che da qualche parte ci sia il Colosseo o una torre pendente o chissà cos'altro, in che modo noi dobbiamo attirare i turisti a Caselle? Certo, si mangia bene, la gente è cordiale, c'è ospitalità, ma sono cose importanti, necessarie, c'è tranquillo, ma non credo che, per quanto io ritengo il casellese il migliore di tutti, che gente ugualmente cordiale, ospitale e dove si mangia bene non ce ne sia, non solo nel comprensorio, ma anche in altre parti di Italia. E allora qualcosa dobbiamo inventarci, per dire, oh venite a Caselle perché c'è qualcosa di particolare. Ci inventiamo questo centro didattico, questo scatolone che doveva essere riempito. Abbiamo continuato la collaborazione con gli speleologi, grazie anche alla collaborazione di Rocco Ettore, che avevo attento alla discussione, e gli speleologi Rocco dello Antispo, quando? Fra giugno, poi ti dirò perché, avranno la loro stanza, firmeremo la convenzione con il gruppo speleologico di Napoli, che è stato molto attento al nostro territorio, alle nostre grotte, ci ha dato una grossa mano, con grande passione e professionalità, e per questo noi continueremo questa collaborazione. Ma la cosa più importante è la realizzazione che noi andremo a fare del museo multimediale in quella struttura. Noi realizzeremo un museo con apparecchiature multimediali, tridimensionali, con ologrammi, che non esiste nella provincia di Salerno, c'è il Colano, uno bellissimo, molto più bello ovviamente, ma è il Colano, è il Colano, ma nella provincia di Salerno non ce ne è uno pari. Vi voglio dire come lavoriamo, lo ha saputo il patto.